Allora, il primo relatore è Dampis, che riparerà, non c'è problema svolto. Ok, allora iniziamo. Per chi deve andare nell'aura della braccia che può in questo momento spostarsi sull'altra braccia. Cercheremo di essere sincronizzati in modo che quando si riuscite di prendere questa braccia, non cambia anche quella dell'altra braccia. Vi spostate nel corredore di Pia della Manetta e ve la do subito, se potete fermarvi. Mi sono dimenticato l'ultima cosa. Qui fuori trovate il pacchetto del gruppo di Misa e oltre a poter prendere gli avvisivi, loro saranno un sorta di gioco a chi riesce a rispondere a... con un'idea che è giusto, riceverate gadget, immagino, ci sia anche una maglietta di uro o qualcosa del genere. Quindi, provateci. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Telecampus, sono professore di informatica, da un anno non lavoro con il progetto in top, in particolare sulla libreria di Pia. e questo seminario l'ho diviso in due parti. Una cercando di trovare una congiunzione fra il Deep Packet Inspection e il Machine Learning. La seconda parte, introduco un progetto che sto portando avanti per il tirocio di laurea, una rete neurale per il riconoscimento e la classificazione delle immagini, che utilizza una libreria di open source di Google chiamata TensorFlow. Ma partiamo con la classificazione del traffico. Rapidamente, come si è evoluto la classificazione del traffico di rete nel tempo? Beh, allora, innanzitutto la tecnica più ancestrale, diciamo ormai quasi obsoleta, era quella di definire un protocollo in base alla propria porta. quindi, ad esempio, porto 80 gole HTTP. Ovviamente, questo metodo, potete ben capire, con la diffusione di un sacco di protocolli, è ormai superata. Quindi, siamo passati alla tecnica del Deep Packet Inspection, ovvero cercare di classificare un protocollo in base alla sua parte dati. Ovviamente, perché ogni protocollo si differenzia dagli altri in base a delle caratteristiche che possiamo trovare nella sua parte dati. Questa cosa va benissimo, funziona, però c'è un problema. C'è un problema dovuto al fatto che, a giorno d'oggi, ci sono un sacco di applicazioni che purtroppo sono cifrate e questa tecnica non riesce ad essere così efficiente. Allora, cosa si è sviluppato negli ultimi anni? Si è sviluppata l'idea di trovare un punto di vista diverso, ovvero cercare di capire un'applicazione, come si evolve in una finestra temporale, cercando di tirar fuori delle caratteristiche differenti, quindi ad esempio statistiche oppure di come, ad esempio, il flusso si muove in uno spazio di tempo. Quindi, diciamo, tutte caratteristiche che possono essere estratte, date in pasto ad un classificatore, ad un modello che viene opportunamente creato, grazie al machine learning, e dare una classificazione ulteriore. Questo lo possiamo vedere soprattutto per quanto riguarda le cosiddette applicazioni. Ovvero, allora, NDPI è la libreria di quanti specie che si utilizza in top e, diciamo, questa libreria funziona, ma se per esempio prendiamo questi tipi di prototipi applicativi, o meglio applicazioni, qui c'è il problema. Perché? Per esempio, prendiamo Whatsapp. Whatsapp è un'applicazione proprietaria e cifrata. Quindi, il Deep Ad inspection non ha più quella sua peculiarità per cui possiamo andare dentro il payload, tirare fuori le informazioni e vedere qual è il protocollo. Allora ci servono, appunto, delle caratteristiche differenti. Caratteristiche, appunto, possono essere il tempo di interarrivo di un pacchetto, come si muove il flusso. Questo perché? Perché Whatsapp, ad esempio, gira su diversi protocolli, quindi non è che utilizza un protocollo solo e questo è facile da riconoscere. Inoltre, una delle cose più difficili per mantenere aggiornata la classificazione di un protocollo come Whatsapp è questa. Ovvero, ogni volta che viene implementato nuovamente il protocollo, il Deep Ad inspection, o meglio, il D-Sector associato all'applicazione che viene riconosciuta, deve essere implementato di nuovo, quindi con un'operazione fatta a mano. Questa è una grossa perdita di tempo e anche di energie. è abbastanza noioso e fastidioso. Quindi, il discorso qual è? Il discorso è cercare di avvicinarsi al machine learning perché possiamo utilizzare quelle features che avevamo visto prima che esulano il problema dell'implementazione del payload. Quindi, se noi riusciamo ad estrarre determinate informazioni, creare un nostro modello che verrà cosiddetto train-out per poter riconoscere determinati protocolli, abbiamo fatto Bingo. Quindi, ad esempio, prendiamo un flusso di Whatsapp, estraiamo determinate caratteristiche, le passiamo a un classificatore che è istruito per determinare che quel flusso è Whatsapp, ad esempio. Ecco, qui abbiamo una veloce implementazione di come potrebbe funzionare un modello del genere. Quindi, prendiamo del traffico, estraiamo i vari flussi divisi per protocolli, da queste informazioni estraiamo quelle features peculiari per ogni protocollo che sono differenti da guardare il protocollo dal punto di vista del payload. Estrarre queste informazioni le passiamo a un modello, cioè costruiamo un modello grazie agli algoritmi di machine learning che permettono di creare delle classi di riconoscimento. Ora, questi algoritmi sono abbastanza complessi e ci vorrebbe un sacco di tempo per spiegarvi. Però, l'idea è cercare di avvicinarsi il più possibile agli algoritmi di deep learning. Perché? Per questo motivo, perché il deep learning ha il vantaggio di non dover dedire al modello quali sono le features, ma se auto estrae, cioè riesce da solo a tirare fuori le informazioni che gli interessano. Quindi, per la mia esperienza di quest'anno sul TBI e per lo studio, per il mio diritto universitario sul machine learning, posso dire che non credo che il machine learning possa, come dire, soppiantare il vecchio deep bucket dispatcher. Però, secondo me, se riusciamo a creare un classificatore che utilizzi il machine learning per le applicazioni di alto livello che utilizzano vari protocolli e utilizziamo il deep bucket dispatcher per riconoscere i protocolli che stanno sotto, otteniamo la migliore accuratezza possibile. Questo, almeno, è il mio pensiero e anche, insomma, studiando un po' in giro alcuni modelli che già esistono, questo, diciamo, dovrebbe essere la via da percorrere. Ora, parallelamente a questo studio, vorrei introdurvi velocemente al mio progetto che sto portando avanti per il tirocinio che riguarda il riconoscimento delle immagini, la classificazione delle immagini, creando una rete neurale grazie al deep learning. Il progetto si chiama Component perché, diciamo, per il riconoscimento delle immagini si utilizza una rete neurale cosiddetta convoluzionale, perché la convoluzione è la tecnica per cui le immagini, passando attraverso la rete, vengono, diciamo, modificate e modellate secondo determinati algoritmi, in modo tale che il classificatore riconoscere riconosca che quelle determinate immagini sono di quella categoria. È sviluppato con TensorFlow, che è una libreria Google open source, potete andare a vedere il sito internet, tra l'altro ci sono dei tutorial molto ben fatti. Si basa su questo algoritmo AlexNet, che è un algoritmo sviluppato da un professore, un ricercatore dell'Università di Toronto. Il modello si basa su determinati layers, cosiddetti convoluzionali, ovvero questo. Ora qui ne abbiamo uno per semplicità, ma in un modello convoluzionale che ne sono molti, e qui, diciamo, rappresenta la complessità. Ovviamente, ecco, diciamo, il concetto fondamentale per poter dire io passo in input delle immagini e la mia rete mi possa dire a quale categoria appartiene le immagini è data da questa formula. Ovviamente, questo è l'input, questo è l'output, quindi il nostro risultato, in base a cosa? In base a due parametri. Questo parametro A è quello fondamentale perché è la cosiddetta matrice dei pesi che, nel caso, nel caso la nostra uscita fosse sbagliata, quindi se abbiamo un'accuratezza di riconoscimento basso, queste matrici dei pesi, che sono quelle che portano le informazioni e che permettono ai nodi della rete di parlare, devono essere in qualche modo reimplementate. perché si parla di rete neurale? Perché prende proprio dal punto, diciamo, prende spunto proprio dal cervello umano. Questi sono i neuroni, i nodi della rete, queste sono le informazioni che si passano i nodi della rete e abbiamo un'uscita. La nostra uscita, in questo caso, ad esempio nel mio oggetto, è a quale categoria di immagine, a quale categoria appartiene una determinata immagine che entra in input e qui dentro abbiamo il noccio, diciamo, della questione. Quindi, come, diciamo, qui è l'implementazione che permette il riconoscimento con un'accuratezza maggiore o minore. Quindi, ecco, qui abbiamo l'esempio di un'immagine convoluta, quindi abbiamo l'immagine normale e praticamente all'interno, qui dentro, avviene questa cosa qua. L'uscita deve essere una categoria. Qui, questa è l'implementazione dell'algoritmo AlexNet, a cui ho preso spunto, non è questo, ma è un'idea per farvi capire quanto può essere complessa una rete neurale. E ecco, qui abbiamo, io ho utilizzato questa libreria chiamata TensorFlow che basa tutto il discorso sull'idea di grafo e di nodi che si passano informazioni tramite dei propri collegamenti. Quindi, i nodi, diciamo, TensorFlow dipende come operazioni matematiche che si passano informazioni tramite dei tensori che non sono altro che degli array dei dati che vengono trasportati, che vengono passati da uno ad un altro. Quindi, questa è una rete in cui abbiamo input, i vari nodi che parlano fra di sé e poi l'output che sono le varie categorie. TensorFlow è scritto in C++ però rappresenta API in Python. Ecco, brevemente, il concetto fondamentale di TensorFlow è il grafo, come detto, e qualsiasi operazione che viene definita nel grafo deve essere passata ad una sessione che rappresenta il contesto di tale operazione e poi lanciata. Quindi tutto è un grafo e il grafo viene lanciato grazie proprio alla cosiddetta RUN. Quindi qui abbiamo la semplice implementazione. Per concludere, visto che c'è buonissimo tempo, la differenza tra questa che è, diciamo, una semplice implementazione della formula per cui abbiamo input, convoluzione immagini output, è data da queste funzioni che sono la cosa più importante per creare un buon modello, un buon modello, in questo caso è un po' evoluzionale, ma con la convoluzione per le immagini, poi ci sono reti neurali per riconoscimento delle parole, delle voci. Quindi, ovviamente, la TensorFlow implementa tutte queste funzioni che, questo è un grosso vantaggio perché ognuna di queste funzioni rappresenta la computazione matematica, rappresenta una computazione matematica molto complessa. Finisco. Il risultato che abbiamo ottenuto con questa rete è utilizzato due dataset diversi, uno più piccolo e uno più grande. Quello piccolo è riuscito a indovinare il 95% delle immagini, quindi, mentre nella prossima stiamo ancora lavorando perché sono ben 13 mila immagini e quando viene lanciato per fare i test ci mette anche due o tre giorni. Quindi, insomma, grazie. Vi ringrazio e qui ci sono un po' di più contatti. Se vi interessa scrivetemi pure. Grazie.